Presentati questa mattina i quattro progetti per i quali il Comune di Pordenone ha ottenuto i finanziamenti del bando PNRR. Si tratta di 2,7 milioni di euro totali da gestire nel prossimo triennio in ambito di inclusione e coesione sociale. La misura prevede l'implementazione dei servizi per realizzare percorsi di prevenzione della vulnerabilità delle famiglie, percorsi di autonomia per anziani non autosufficienti e persone disabili, un rafforzamento della rete dei servizi sociali fino ad arrivare all'Housing First e alle stazioni di posta. Pordenone città e il suo territorio sono sicuramente caratterizzate dal benessere, da una serie di imprese che garantiscono una forte occupazione. Addirittura per alcuni settori c'è la richiesta di trovare persone perché non c'è mano d'opera. Accanto però a questa narrazione, a questa cornice, c'è un'altra di cui si parla meno ed è quella delle povertà emergenti, delle emergenzialità, delle situazioni di difficoltà rispetto alle quali i servizi sociali devono essere attrezzati, cioè devono essere in grado di dare risposte a quelle che sono emergenze che stanno nascendo a causa delle crisi economiche, delle difficoltà che quotidianamente noi conosciamo. Grazie a questi finanziamenti il sistema della rete di protezione sociale e territoriale sarà attrezzato e organizzato per dare risposte puntuali. Io credo che il livello di qualità di vita, che il grado di civiltà di un territorio si misuri sicuramente dagli aspetti economici, dall'occupazione, dalla vitalità culturale, ma anche dalla capacità del sistema pubblico e da risposte a chi in condizioni di difficoltà non per sua scelta ma purtroppo per circostanze esterne. La pianificazione risponde a tutte quelle che sono le linee di finanziamento della missione numero 5, ovvero il sostegno alla genitorialità, la prevenzione della vulnerabilità delle famiglie, i percorsi di autonomia degli anziani non autosufficienti e di quelli riguardanti le persone disabili, il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari e ovviamente il rafforzamento della rete dei servizi sociali fino ad arrivare all'housing first e alle stazioni di posta. L'importo totale del finanziamento è oltre i 3 milioni e 200 mila euro, 2 milioni e 700 mila dei quali è indirizzato all'ambito del noncello. Un grande risultato, un vero lavoro di squadra, un lavoro di equip partecipato, di sistema direi che è stato possibile conseguire proprio per questa modalità di lavoro e che risponderà ai bisogni dei cittadini con quella visione in prospettiva futura di innovazione dei servizi sociali.